Sì, se lo dirà puoi andare. Ma che cazzo sono qui? Per dire la cosa è Egipto, la coppa è tutta l'armi Ma qua ha paura Fa paura Qua perché c'è la coppa, c'è la coppa Ma io sono pure il giugno armato che fa paura Se è un'autore, se ne sa Non è pure il giugno armato, chi deve rimettere la coppa? Fammi prendere il giugno armato eri ho ficcato identiche Sì, ci siamo ancora qui. Eh, siamo sempre inizia. Se ci viene qualcuno si dovrebbe aprire la strada. Però ci sono una segnaletica idonea. C'è una segnaletica idonea. E' una segnaletica idonea. Poi hanno lasciato un poveraccio là, chiuso con un asso, sulisso, senza una paletta, senza una buccibotta da rimpracendo. Ma che fai? Che fai? Non ho capito. Ci stanno i vici. Sono scumbazzo là, saltuando in coppia. E poi sopra, ormai, ormai è successo, non è che...